ci sono territori che non nascono per fare vino ma lì alla fine o il karma o la fortuna pure addirittura un'entità superiore ci punta il dito e dice qui si faranno dei grandi vini questo è il caso della champagne una regione che proprio per caratteristiche perché effettivamente posta nella parte estremamente a nord della francia siamo vicini al cinquantesimo parallelo ecco non si prestava assolutamente per andare a fare del dei vini di grande prospettiva tant'è che il mondo champagne nasce in realtà con dei vini rossi leggermente mossi di dubbissima qualità però è proprio la rivoluzione che è stata portata dal grande don perignon come sappiamo tutti sul finire del 1600 che ha creato la leggenda che ha creato quindi la capacità di raccontare e valorizzare al massimo un territorio come forse non è mai accaduto nella storia dell'umanità quindi siamo a non troppo lontani da da parigi siamo nella parte settentrionale della francia un clima che prima del cambiamento climatico era estremamente freddo negli ultimi anni a partire dalla seconda metà degli anni 70 abbiamo assistito proprio a un cambiamento anche dei tempi di vendemmia dobbiamo anche considerare che questo mette in crisi non poco quelli che sono poi dei sistemi regionali ad ogni modo questa terra promessa questa terra così famosa che produce alcune delle bollicine più importanti al mondo sicuramente ha valore quindi non a volume perché comunque la dimensione territoriale estremamente limitata ecco a valore tra i più importanti in modo indiscutibile appunto qui abbiamo un territorio che si concentra principalmente e parliamo sempre di regione intesa come regione vitivinicola quindi non come regione amministrativa però nella parte nella parte nord in cui andiamo a trovare quelli che sono storicamente i tre territori più vocati quindi la Côte Blanc dove troviamo lo chardonnay come protagonista e quindi la vinificazione di uno dei principi di Champagne qui lo chardonnay che è vero che noi siamo abituati a pensare lo chardonnay come un vino burroso un vino ampio generoso ma in realtà con le temperature fredde che un tempo c'erano in Champagne era in grado di esprimere tutta la sua eleganza con grandissima acidità con grandissima freschezza e la capacità anche comunque di invecchiare abbiamo poi le due zone invece legate alla montagna Reims con il Pinot Noir quindi con l'altro secondo attore più importante in regione il Pinot Noir tende poi a portare in questo caso più struttura più corpo più potenza ma anche più intensità e a dare lo spettro aromatico che spesso e volentieri lo chardonnay non ci concede fino in fondo troviamo poi la terza zona terza zona che è la Vallée della Marna dove a fianco del Pinot Noir andiamo a individuare quello che è il Monier un tempo era chiamato Pinot Monier proprio per le sue caratteristiche ora il discorso del del mugnaio l'abbiamo sentito e risentito più volte ma vale la pena citarlo nuovamente ovvero il nome di questo vitigno deriva dal fatto che le bacche ottenute appunto sul grappolo siano estremamente piene di pruina quindi questa sostanza che vista da lontana anche se al tatto risulta decisamente cerosa ma vista da lontano sembra quasi una polvere quindi come se fosse una farina ovvero se un mugnaio avesse toccato un grappolo di uva questa è un po' la motivazione dietro al nome ecco qui giochiamo un po' sul discorso struttura ma soprattutto su delle note aromatiche molto particolari e facilmente riconoscibili al naso Monier è diventato negli anni un vitigno che è andato a lavorare sul blend integrandosi di solito con piccolissime quantità ma negli ultimi anni abbiamo visto anche delle generazioni di produttori di champagne che sono andati a valorizzarlo andando a lavorarlo al cento per cento quindi è questa anche la bellezza comunque di una regione andiamo a definire quelle che sono le sue caratteristiche ma poi troviamo quelli che sono gli innovatori ad ogni modo quello che ha in qualche modo caratterizzato questa regione è proprio il metodo inventato da Don Perignon sul finire del secento che prevede la rifermentazione in bottiglia quindi il discorso della spumantizzazione avviene con delle tecniche precise e specifiche con delle tecniche che vanno a portare la maggior qualità tanto pensate a un mondo in cui la viticoltura è possibile per delle caratteristiche del suolo uniche ovvero questa presenza di gesso e calcare veramente importante che è in grado di assorbire il sole quindi di assorbire il calore durante il giorno per restituirlo la notte quando effettivamente le temperature si abbassano anche troppo le vigne tendono ad essere abbastanza anane con delle potature che arrivano intorno ai 60 centimetri quindi i grappoli si ritrovano proprio ad essere quasi al livello del terreno proprio per poter usufruire al massimo di questo rilascio di calore proprio del terreno ma la componente di gesso è importante anche perché è in grado poi di mantenere una buona presenza di acqua che sarà in grado durante l'estate che comunque tende ad essere abbastanza calda di portare giovamento alla pianta quindi di dargli la possibilità di avere una riserva idrica veramente veramente importante la zona nord appunto caratterizzata da questi tre territori in realtà anche un'influenza che deriva proprio dall'oceano atlantico quindi abbiamo un clima continentale ma con un'influenza ben specifica abbiamo poi un ultimo territorio che è un territorio nuovo che è stato inserito in realtà in seconda battuta che è quello del cosiddetto ob siamo nella zona della Cote Bar qui siamo a circa 60 chilometri di distanza da Chablis quindi siamo quasi in Borgogna e abbiamo infatti una continuità di territorio non così scontata dobbiamo però considerare che il protagonista non è lo chardonnay come potremmo pensare appunto avendo parlato di Chablis ma è decisamente il Pinot Noir con quelle che sono le spaventizzazioni in rosa quindi i rosè di champagne spesso e volentieri vengono prodotti nella zona dell'Obe ad ogni modo tornando a parlare di champagne nel suo insieme quindi un territorio unico in cui l'uomo ha dovuto trovare anche un sistema di allevamento che potesse valorizzare le caratteristiche proprie del suolo che da sé davano vita a dei vini incompiuti e poi arriva Don Perignon o forse i mercanti francesi o i mercanti inglesi o i mercanti tedeschi chi lo sa comunque arriva qualcuno che decide proprio di cambiare e intuisce che dato che le bottiglie tendevano a rifermentare spontaneamente perché dove dovete immaginare che andiamo a raccogliere l'uva iniziamo quindi in modo molto tardivo perché al tempo l'uva veniva colta fino a ottobre inizio novembre iniziamo il nostro processo di vinificazione quello che accade che ovviamente è un processo incompiuto perché le temperature si abbassano e non danno la possibilità all'uva quindi di andare a fermentare fino in fondo a questo punto in primavera quando le temperature si rialzano riparte un po di fermentazione che produce co2 all'interno della bottiglia questo in realtà è il metodo ancestrale né più né meno però quello che accadeva in maniera completamente naturale nel mondo champagne Don Perignon intuisce il potenziale di questo metodo decide quindi di andare a lavorare per valorizzarlo al massimo e inventa il metodo champenoise che si basa appunto su quella che è la rifermentazione che avviene in bottiglia senza andare nello specifico del metodo però qui abbiamo tantissimi innovatori abbiamo dei innovatori come Madame Clicquot la vedova Clicquot che ha inserito quello che è il concetto di pupitro ovvero quella tavola messa ad A in cui andiamo a inserire le bottiglie e andiamo a girarle proprio per cercare di portarle in una posizione che sia quasi verticale nel momento in cui con la rifermentazione che avviene in bottiglia con l'aggiunta di lieviti e di sali appunto vogliamo portare questi lieviti questi sali le sostanze esauste verso la parte del collo modo tale che quando andremo a fare la sboccatura per andare a rimuovere nel dettaglio questa componente di appunto di sostanze che ci hanno aiutato a svolgere la rifermentazione quindi a rendere il vino effervescente all'interno della bottiglia saremo in grado comodamente di andare a togliere ma abbiamo poi dei personaggi come anche Adolf Jackson che ha avuto il merito di andare a creare la cosiddetta gabbietta quindi la gabbia metallica che tiene il tappo raso alla bottiglia considerate che fino a quel momento si utilizzava lo spago quindi con lo spago la pressione che arriva addirittura a sei bar pensate che quella della gomma di una macchina banalmente è intorno ai due bar appunto quindi immaginiamoci la grandissima pressione all'interno di una bottiglia tendeva a discostare un po' il tappo d'alcol e a far fuoriuscire un po' di vino ecco quindi questo è un territorio in realtà in cui l'innovazione ha svolto un ruolo fondamentale quindi l'uomo più che in altre zone di Francia del mondo è stato veramente la parola chiave all'interno del concetto di terroire questa zona abbiamo delle caratteristiche poi nel vino che sono uniche e irreplicabili ed è questo probabilmente il segreto del champagne però parlavamo di contrapposizioni e non abbiamo contrapposizione tra buono e buono perché lo champagne tendenzialmente va su dei livelli qualitativi estremamente elevati la contrapposizione che però possiamo individuare è quella rappresentata dalle maison e dai vigneron siamo in un territorio siamo in un mondo in cui le grandi maison difficilmente hanno vigna di proprietà o comunque hanno una piccola parte di vigna di proprietà ad eccezione fatta per esempio di Viro de l'air quindi crystal in cui siamo arrivati a quasi una totalità di vigneti di proprietà ma lì c'è un progetto svolto e portato avanti sulla chiave della biodinamica e quindi la volontà di poter lavorare appunto su vigne proprie ma altrimenti quello che generalmente succede nel mondo del champagne è proprio che le grandi maison allevano e coltivano una piccola parte di vigna e poi per il resto vanno a comprare da conferitori selezionatissimi con cui spesso e volentieri ci sono dei contratti di esclusiva appunto andandoli ad affiancare durante tutto quello che è il processo di produzione in questo mondo quello dello champagne abbiamo anche una camera di commercio e abbiamo anche proprio delle associazioni dedicate in cui il confronto tra maison e vigneron che spesso e volentieri produce scontro è effettivamente fondamentale ogni anno viene determinato quello che è il prezzo proprio di vendita delle uve quindi la sorte appunto che poi avranno i produttori i vigneron che vanno a conferire ai vigneron qualcuno proprio in funzione di questa fluttuazione del prezzo ha anche deciso di percorrere il proprio percorso andando a non conferire ma spumatizzare direttamente creando spesso e volentieri dei vini in serie limitatissime perché comunque parliamo di piccole produzioni di una qualità assurda altissima è caso per esempio di selos e in questo mondo dobbiamo anche immaginarci che c'è un sistema di classificazione che va a individuare quello che è il prezzo quindi quando parliamo di crewing per quanto riguarda il mondo della champagne intanto facciamo riferimento a village quindi ai comuni e non stiamo parlando di singoli vigneti però quello che è la considerazione principale è il valore delle uve quindi grand crew che sono soltanto 17 hanno una remunerazione del 100 per cento sul valore delle uve invece se parliamo di premier crew dipende arrivano fino al 99 per cento ed è il caso per esempio di marail che è uno dei premier crew più importanti in cui si arriva ad attribuire appunto un 99 per cento di remunerazione ma possiamo arrivare appunto fino all 89 per cento fino al 90 per cento se invece parliamo di crew in maniera più classica appunto siamo al di sotto della soglia del 90 per cento di remunerazione quindi questo è un sistema economico che è stato in grado di settare veramente la qualità del territorio addirittura la data di vendemmia viene sempre determinata o almeno quella di inizio vendemmia vediamo spesso e volentieri le grandi maison che danno il via libera quasi immediatamente mentre i vigneron più piccoli tendono un po ad aspettare di questo è un mondo in cui ci ritroviamo davanti a uno scontro tra titani e piccolissimi produttori però è proprio questo il suo bello perché abbiamo il prestigio abbiamo la classe investimenti grandissimi per produrre dei vini dei champagne che sono atti ad invecchiare per tantissimo tempo e che sono in grado di esprimere anche sontuosità e poi dall'altro lato abbiamo la visione del piccolissimo produttore il modo migliore per cercare di comprendere il lavoro svolto per raggiungere la massima qualità e quindi l'eccellenza da parte delle maison è forse quello di citare una delle più blasonate in assoluto ovvero Don Perignon di proprietà di Moet Chandon ma indipendente sia a livello di marchio ma anche proprio nel modo di lavorare Don Perignon a dispetto di quello che potremmo pensare non è una delle realtà delle maison più antiche di champagne Ruinard è nata sicuramente prima ma sono in realtà molti gli attori player che abbiamo trovato sul mercato basti pensare che Gosset è l'azienda vitivinicola più antica di champagne ancora in produzione ma non si occupava in fase iniziale appunto della produzione di bollicine questa è un po' l'idea ecco parliamo di Don Perignon però perché perché già nel nome della maison abbiamo proprio l'identità siamo la base proprio è quella di Hautevillers quindi dell'abbazia dove il grande Don Perignon poi ha sviluppato l'idea della spumatizzazione champenoise quindi siamo in uno dei luoghi storici però la storia di questa azienda parte in realtà negli anni 30 quando Jean de Vogue decide di acquistare appunto il marchio di stabilire la base produttiva di questa di questa azienda comunque la base di identità ecco lo fa proprio perché aveva intuito che poteva esserci uno sviluppo estremamente interessante ma perché parlare della storia semplicemente per il fatto che le prime annate che sono andate in commercio di Don Perignon fanno riferimento all'annata 1921 la prima commercializzazione è arrivata in Inghilterra nel 1935 e invece negli Stati Uniti nel 1936 a causa del della guerra ma questo ci dà la dimensione di quello che era stato il tempo di invecchiamento dello champagne quindi nella maison Don Perignon proprio nel dna stesso della casa di spumatistica ritroviamo l'idea di un lunghissimo contatto il valore assoluto portato avanti da questa maison è stato quello di andare a intuire grazie al grandissimo lavoro fatto da Goffra che è stato fino al 2018 lo chef de cave che ha lavorato come ultima l'ultimo millesimo perché Don Perignon lavora su millesimo quindi lavora su annata non su blend di annate appunto utilizzato nel 2008 in cui poi è subentrato anche il nuovo chef de cave che è chaperon ovvero il suo il suo allievo lo chef de cave è la persona che va poi e dà la responsabilità a creare l'assemblaggio un assemblaggio che può essere appunto di più annate ma può essere anche di più vigneti di più parcelle quindi andiamo a lavorare proprio per cercare di costruire la massima qualità ma Don Perignon ha intuito un'altra cosa quindi come maison non come personaggio quello del contatto sui lieviti ha intuito che ci possono essere tre età dello champagne una prima età che rappresentata proprio dalla gioventù che è il millesimo classico di Don Perignon che troviamo sul sul mercato che tempo di permanenza sui lieviti quindi a contatto proprio con il lievito in quella fase in cui la bottiglia lo vediamo che piano piano andiamo proprio a girarla per portare poi i lieviti in punta ecco il momento poi della presa di spuma della spumatizzazione stessa ecco questo tempo dura circa 8 anni quindi i vini escono sul mercato dopo circa un decennio questo anche perché la maison lavora in riduzione le fermentazioni si svolgono in acciaio quindi il mosto e il vino vengono tenuti lontani dall'ossigeno il più possibile per poter poi sviluppare dei grandissimi vini abbiamo bisogno però di tempo e di attesa e quindi questa è l'idea ovviamente i Don Perignon di millesimo appena escono sono abbastanza di nervo sono abbastanza duri anche se poi l'azienda proprio il suo concetto quello di lavorare anche su una certa opulenza una certa massa liquida che ritroviamo sempre al sorso ma ritroviamo poi nei profumi uno dei profumi caratteristici di Don Perignon è proprio sempre questo questo agrume che spesso volentieri va verso un agrume candito mentre nel rosè va verso un agrume che ricorda un po più un arancia sanguinella ad ogni modo tornando al discorso dell'intuizione legata a quelle che erano le età del del vino del contatto sui lieviti è stato poi introdotto il concetto di enotech che nel 98 diventa il concetto di plenitude quindi p2 e p3 dove troviamo quella che è la fase di età adulta di uno champagne ovvero un contatto sui lieviti che si avvicina addirittura ai 20 anni contatto sui lieviti estremamente prolungato che dà poi ricchezza sia di profumi ma anche di sapore porta cremosità la bollicina diventa ancora più fine e questi sono ovviamente dei champagne come tutti i champagne Don Perignon che non vengono prodotti tutti gli anni ci sono delle annate tipo la 2010 che appunto l'annata che è nata in commercio ora che viene spesso e volentieri criticata nella sua immediatezza per quanto riguarda la fase di gioventù ma in questo caso Chaperone ha intuito il potenziale probabilmente per andare a lavorare su un contatto un tempo di permanenza sui lieviti molto prolungato quindi non è detto che un'annata in cui viene prodotto Don Perignon sia perfetta per il millesimo sia perfetta per il p2 o sia perfetta per il p3 allineando tutti e tre i vini potrebbe dimostrarsi estremamente calzante per una delle tre versioni piuttosto che per l'altra comunque il p3 che è un concetto appena introdotto invece riguarda un tempo di permanenza sui lieviti che arriva addirittura a sferare i 40 anni e Chaperone ha avuto la volontà la voglia la fortuna di poter appunto lavorare con un grande maestro di apprendere da lui quelli che sono i segreti quando Gaufra è andato in pensione ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto un po' sorridere i tanti appassionati di Don Perignon ovvero che se prima pensavamo che il tempo massimo di permanenza di Don Perignon sui lieviti fosse di 40 anni oggi possiamo tranquillamente dire che Don Perignon potrebbe rimanere sui lieviti anche 100 anni prima di andare sul mercato il che però non vuol dire necessariamente che verrà fatto un p4 ma in tanti stanno già sognando al fatto che la Maison possa introdurre un nuovo vino una nuova linea abbiamo anche la versione Rosé generalmente Don Perignon lavora con una prevalenza di Chardonnay ovviamente nel Rosé si tende ad avere più Pinot Noir di cui una metà di solito viene vinificato addirittura in rosso le percentuali dei vitigni utilizzati ad ogni modo cambiano ogni millesimo cambiano ogni anno proprio per cercare di valorizzare al massimo quello che è il lavoro fatto in vigna dai vigneron affiancati appunto dal della Maison la scelta di lavorare in questo modo poi a seconda il raggiungimento della massima qualità anche perché abbiamo la possibilità in funzione proprio dell'anno quindi anche della vendemmia delle caratteristiche stesse dell'annata di cercare di giocare appunto su vigneti differenti il lavoro viene svolto principalmente su su Grand Cru anche se troviamo un premier cru che ha quello di Hotfiller anche perché ovviamente va portata a quella che ha l'identità storica dell'azienda la cosa che poi fa sorridere ma ci fa capire quanto sia anche moderno il modo di lavorare di una Maison di questo tipo è che il direttore artistico il direttore creativo in realtà è l'Anny Kravitz quindi un musicista estremamente famoso e importante perché è vero che lo champagne è un vino da occasione ma può essere anche un vino un po' più spensionato anche se Don Perignon in genere tende ad essere abbastanza setoso copulento con questa pollicina che soprattutto quando arriviamo alla versione P3 troviamo estremamente elegante quasi impercettibile ad ogni sorso di P3 andiamo in realtà sorprenderci del fatto che sia uno champagne perché guardando il calice non abbiamo minimamente la percezione appunto che ci possano essere delle bollicine al suo interno quando parliamo del rosè il rosè tende spesso e volentieri soprattutto nelle sue versioni Plenitude ad avere la caratteristica più di vinosità ovviamente ha l'eleganza di uno champagne ma è un quasi un vino a tutti a tutti gli effetti la caratteristica di Plenitude è proprio quella quindi di andare a interpretare quelle che sono i momenti e le fasi di vita di uno champagne si chiamava Enotech proprio in omaggio a fatto che le bottiglie provenissero dalla cosiddetta biblioteca sotterranea in cui le bottiglie venivano messe da parte e potevano essere consultate tra virgolette in qualsiasi momento ed è da lì in realtà che con l'annata 1921 nasce il mito della Maison Don Perignon Se nelle Maison quando cerchiamo di umanizzare quindi di trovare comunque l'attore principale giochiamo sempre sullo chef de cave che nel caso di Don Perignon immaginiamo essere in rigoroso silenzio all'interno dell'abbazia quando deve decidere proprio quello che è il la cuvée quindi il blend dei vari vigneti delle varie parcelle vinificate ma anche proprio dei vari vitigni utilizzati che ricordiamo Chardonnay e Pinot Noir beh allora dall'altro lato nel mondo dei vigneron abbiamo chi gioca in maniera completamente differente ed è il caso di Jacques Celos in realtà stiamo parlando del figlio Anselm e del nipote di Jacques Guillaume questa è una piccola realtà 50.000 bottiglie prodotte all'anno più o meno in tutto quindi una produzione rispetto a milioni di bottiglie di Don Perignon proprio ai opposti ma è una storia che riesce a incarnare alla perfezione anche nel modo di lavorare quello che è il concetto di vigneron intanto abbiamo la possibilità di lavorare in biodinamica quindi la Jacques Celos è una piccola maison che forse si colloca proprio nel mezzo tra le maison e il vigneron puro perché comunque i prezzi delle bottiglie sono saliti tantissimo ed oggi c'è tantissima richiesta sul mercato ad ogni modo fino a metà degli anni 70 l'azienda conferiva le maison siamo a Davies siamo in una zona avvocatissima per quanto riguarda il lavoro con lo Chardonnay appunto e la volontà a un certo punto è stata quella proprio di andare a valorizzare soprattutto le vigne vecchie perché l'età dei vigneti utilizzati da Celos è un'età comunque che inizia a essere importante nel mondo della champagne ma la volontà anche di valorizzare al massimo la visione e il lavoro che veniva appunto fatto in vigna con tutta la cura maniacale che veniva messa nel cercare di portare avanti un vigneto appunto in biodinamica la metà dei anni 70 quindi questa rivoluzione di non conferire più le uve ma di andare a lavorare su una propria linea dai anni 80 primi anni 80 entra il figlio Anselm che è la persona che ha veramente rivoluzionato il mondo di Jacques Celos tanto va studiato a Bern quindi in in Borgogna e questo lo ritroviamo anche nello stile dei vini se da un lato parlando per esempio di Don Perignon parliamo di millesimo quando entriamo nell'universo di Celos non parliamo più di millesimo stiamo parlando di una cuvée ma non è una cuvée frutto di un assemblaggio premeditato in continuazione è una cuvée molto particolare perché intanto viene fatto vengono fatte delle micro vinificazioni dei singole parcelle e poi vengono appunto decisi quelli che devono essere i blend che però vengono messe all'interno di contenitori in legno e parte il sistema il metodo Solera quindi il metodo che è un loro chiamano Perpetuel ma ricorda proprio da vicino quello utilizzato per il Marsala oppure per i vini appunto del sud della Spagna ed è un sistema che permette di blendare in maniera continuativa diverse annate sui vini di Celos parliamo sempre minimo di tre annate anche quando non utilizziamo il sistema Solera sul sistema Solera classico ci spostiamo invece verso le 12 annate quindi ovviamente un blend continuativo che dà però una visione anche molto differente al vino perché se è vero che Don Perignon per esempio lavorava in ambiente riduttivo quindi all'interno dell'acciaio tenendo il vino il più lontano possibile dall'ossigeno ecco qui avviene esattamente l'opposto ovvero l'utilizzo del del legno in fasi così delicate per il vino porta a uno stile ossidativo unico e facilmente riconoscibile a questa cosa del Solera Suavis ha preso abbastanza campo ci sono anche altri piccoli produttori che utilizzano però è un quasi un marchio di fabbrica proprio di Anzi Ancelos ed è riconoscibile lo stile ossidativo spesso riporta dei profumi che non sono esattamente perfetti precisi però parlando con Anselmo lui evidenzia sempre quanto egli sia in realtà un grandissimo fumatore e il naso forse la cosa che gli interessa meno in assoluto quello che gli importa è soprattutto il il palato il vino non deve essere potente ma deve essere intenso ed è quello che sta cercando di fare appunto con questa tecnica con questo lavoro certusino e questa danza questo gioco appunto che avviene con l'ossigeno però è la vigna il focus di tutto tant'è che ogni due anni Anselmo va a inserire in profondità nel terreno dei suoi vigneti che oggi non sono più soltanto ad avviso infatti gioca con più grand crew tra cui troviamo Craman per esempio Menil troviamo il premier crew Marail quindi inizia a giocare anche proprio su vigneti differenti ecco inserisce in profondità questo compost che ha l'obiettivo di ricreare quella che lui chiama linfa vitale del terreno della pianta poi ogni anno tende comunque ad aprire il terreno in due momenti differenti dell'annata proprio per cercare di ossigenarlo e trovare questo equilibrio tra la natura e quello che poi è il lavoro dell'uomo quando va a vinificare appunto utilizzando il legno ha bisogno non potendo andare a fare dei rimontaggi per tenere il vino vivo di utilizzare un bastone la cosiddetta tecnica del batonage quindi inserisce proprio questo bastone all'interno della botte di legno per andare a muovere le fecce fini che sono a contatto con il vino proprio per cercare di portare più cremosità ma soprattutto anche più complessità al naso questa è una tecnica che viene fatta settimanalmente per quanto riguarda il periodo invernale mentre in estate diminuisce quindi viene fatta mensilmente ecco il lavoro che porta avanti selos è proprio un lavoro mirato a un po spiazzare tant'è che in molti detrattori purtroppo di selos dicono che la sua identità il suo carattere la sua visione siano andati sopra quella della territorialità ed è così che tra il 2010 e il 2012 Anselm risponde andando a mettere sul mercato la sua serie dei liudi quindi sei champagne provenienti da piccole parcelle di vigna che esprimono identità profonda tre chardonnay e tre pinot noir proprio per dimostrare che non è la mano di selos che governa ma è proprio la visione del territorio di come andrebbe valorizzato fino in fondo questo territorio oggi troviamo guillaume che è il figlio che è entrato in azienda ha preso le redini ma ha sviluppato anche un progetto suo parallelo su cui ha creato due due vini appunto un produzioni piccolissime perché stiamo parlando nel caso di guillaume di 600 bottiglie per un per uno champagne di circa 2000 per l'altro ricordiamoci che il totale invece prodotto da la jax e los è di circa 50.000 bottiglie di cui circa il 50 per cento sono rappresentati da inizial inizial è un cento per cento chardonnay proveniente da un insieme di grand cru tra cui appunto troviamo avise cramand ed è un vino che non va attraverso il sistema solera quindi è un vino che tende ad essere molto più verticale meno di stile ossidativo inizial dà proprio l'idea che è l'inizio che il primo step che facciamo il primo passo proprio per avvicinarci all'universo di selos di anselm e di guillaume e proprio per questo ha questa facilità di beva che è incredibile però l'intensità al palato poi la ritroviamo anche nei profumi è sempre molto più contenuto molto più corretto è sapido è fresco richiama in continuazione il sorso ma se vogliamo capire fino in fondo lo stile è forse quasi un iperbole di selos dobbiamo andare ad assaggiare substance substance ovviamente solera quindi il metodo perpetuel 12 annate ossidazione portata a livelli estremamente ampi elevati in questo caso lavoriamo sul singolo grand cru che è quello di avisa e qui abbiamo proprio la sostanza di anselmo questo è proprio il suo biglietto da visita forse è un po caricato è un po opulento è un po estremizzato quindi è anselmo che ha voluto dire al mondo questa è la nostra visione però è un modo più semplice in assoluto per spiegare a chiunque quello che appunto è la visione di un piccolo vigneron che nel tempo è riuscito a diventare un grandissimo produttore conosciuto tutto il mondo tant'è che c'è una vera e propria corsa ai suoi vini considerate che sulla linea degli odi alcune produzioni sono al di sotto delle mille bottiglie parliamo magari anche di 5 600 bottiglie al massimo e andrebbero comprate effettivamente tutti insieme per poter paragonare anche quelli che sono i territori quando parliamo di menil parliamo di chardonnay chiaramente ci aspettiamo che sia sontuoso che sia ampio quando andiamo su cramand ci aspettiamo invece che lo chardonnay sia un po più salato e sono queste le caratteristiche che andiamo a trovare nel nei suoi vini ma abbiamo anche un vino ed è forse quello che spiazza di più in assoluto dopo substance che è esquisse esquisse è un sec quindi a un residuo zuccherino estremamente elevato ma l'acidità questa sensazione quasi di agrume leggermente candito di bergamotto ma con una freschezza una punta di sale che sono in grado quasi di spaccare il palato crea proprio questo gioco questo equilibrio in incredibile all'interno della bocca e anche qui siamo in un mondo in realtà del 100 per cento chardonnay quindi jacques e los come maison o come piccola maison nata da vigneron esprime alla perfezione intanto il passaggio generazionale e quindi la famiglia ma soprattutto il duro lavoro in vigna e poi l'idea all'interno della cantina in cui i champagne non saranno mai perfetti e una bottiglia identica all'altra ma sono in grado di raccontare il duro lavoro ma soprattutto di regalare emozioni come pochissimi altri vieni nel mondo